Dice tra pochissimo perché dobbiamo mantenere un attimo i tempi, dunque invece Pierpaolo Treglia, come sfatare in qualche modo la convinzione che Gianni Cupero sia quello più in continuità con il PD che già c'è? Bisogna leggere le emozioni molto semplicemente, se uno leggesse i programmi si renderebbe conto che in realtà il programma più radicale è quello che propone Gianni Cupero. Noi in questi anni abbiamo fatto politiche praticamente liberiste di centrodestra, Renzi è in continuità con quelle politiche, noi invece proponiamo un programma radicalmente diverso, radicalmente di sinistra che mira anzitutto a spostare soldi dai più ricchi ai più poveri, come con la famosa patrimoniale, una cosa che la sinistra propone da sempre e che non è mai stata realizzata. Se noi utilizzassimo quella risorsa, quella tassa, noi potremmo spostare decine di miliardi dai redditi più ricchi ai redditi più bassi. Mi chiedo di fare un salario, un attimo soltanto senza interrompervi, una telefonata in linea. Pronto? Sì, buongiorno e saluto agli ospiti. Buongiorno. Io ieri vedevo una trasmissione, c'era della valle, io voglio fare, siccome ho capito che, non li vedo, però ho capito che sono tre giovani, dovrebbero essere... Il concetto sì, sì, ormai si è giovane. Io sono politicamente giovane. Ho sentito prima uno di loro tre che ha detto 26 anni, questi, sì, il più giovane. Però, in ogni modo, della valle diceva una cosa chiarissima, cioè bisogna mandare a casa tutti questi vecchi decrediti che continuano a fare politica solo per mantenere la poltrona e percepire quello stipendio così misero che percepiscono. Quindi io dico ai giovani, con la speranza che, ovviamente, stando a contatto con questi vecchi, non diventino come questa gentaglia. Assolutamente. Quindi l'unica speranza per cambiare, poi i programmi sono chiacchiere che si dicono e vabbè, però quello è il punto principale. Cosa fanno? Cioè, che obiettivo hanno loro su questo punto? Grazie mille. Grazie per il suo intervento. Intanto, un giro veloce, un attimo solo. Mi chiedevo però, e rilancio un po' la domanda del telespettatore, ma la giovane età è garanzia di rinnovamento davvero? E questo ce lo chiediamo. Un giro di risposte, Paparella. Beh, dovrebbe esserlo da un canto. Poi ci sono, diciamo, i giovani vecchi, c'è espressione, scusatemi, della vecchia guardia e quindi, diciamo, l'età na grafica a quel punto sarebbe un dato relativo. E rispetto alla questione del rinnovamento, c'è una critica che viene mossa alla mozione Renzi, cioè di aver candidato, per esempio, a Bari tutti eletti e quindi si dice che il rinnovamento è. Come replicate a questa regola? Beh, non sono tutte eretti, prima di tutto. In secondo luogo sono persone che alla fine hanno trovato... Una filiera elettorale da portare in campo. Non ci accavaliamo. Sono rimaste disilluse, evidentemente, e vogliono aderire a una nuova idea del PD e quindi, perché no? Un'altra telefonata in linea, pronto? No, non ce l'abbiamo, Fusco. Sì, allora, la giovanità non è sinonimo di rinnovamento. Lo dimostra il fatto che Pierpaolo Treglia sia la faccia presentabile della mozione Cuperlo. Noi non possiamo dire che leggiamo i programmi quando in realtà parliamo di patrimoniale, quando in realtà Cuperlo, che pure sostiene apertamente il governo Letta, ha perso, insieme agli altri parlamentari, tempo per i musì, i munò, patrimoniale. Quella era già una patrimoniale e hanno, come dire, fatto in modo che non ci fosse. Quindi in realtà non è così. I giovani stanno con noi. Se pensiamo che Fabrizio Barca appoggia Civati e i giovani democratici, Treglia in primis, appoggiava Fabrizio Barca quando Barca ha fatto il suo tour e invece Barca sostiene Civati, ecco come Treglia probabilmente sta con la mozione sbagliata. E allora, Treglia, stai con la mozione sbagliata? Barca non si è candidato. Se si fosse candidato Barca avremmo fatto probabilmente una scelta differente. Dopodiché io penso che si può parlare dei giovani, però se si è giovani. Se non si è giovani io penso che bisognerebbe fare quantomeno un atto di umiltà. Io non penso di rappresentare tutti i giovani, però posso dire per certo che ci sono tanti giovani che hanno ancora a cuore gli ideali di sinistra e che pensano che Cupero rappresenti quell'idea. Un'altra telefonata in linea, pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno. Una domanda velocissima probabilmente al rappresentante di Renzi, diciamo così, ma anche aperta agli altri ospiti. Si dice che Renzi sia il Berlusconi della sinistra, ma è un giudizio positivo o negativo? Una bella domanda. Questo dovranno, immagino, stabilirlo gli elettori. È un giudizio positivo o negativo? Sicuramente è una provocazione, voglio dire. Infatti anche Massimo D'Alema cavalca questo life motive che si tratta del Berlusconi di sinistra solo perché sicuramente ha delle capacità di comunicazione notevoli. Però questo penso che sia assolutamente un dato a suo favore. Dunque, visto che però, lo ricordiamo, si elegge non il prossimo Premier, ma il futuro segretario del Partito Democratico, subito dopo la telefonata vorrei che i miei ospiti concludessero questo spazio dicendo qual è l'idea del candidato per il partito. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno. Ciao, sono Francesco Dappoggio. Buongiorno. Saluto i tuoi ospiti, saluto te. Volevo ricollegarmi a quello che ha detto il radioscoltatore precedente perché penso che nessuno dei due abbia dato una risposta precisa. Allora, io sono un vecchio elettore del PD, d'accordo? E sono uno di quelli che si è affidato a Beppe Grillo. Perché? Perché parlava di mandare tutti questi vecchi decrepiti a casa, d'accordo? Il popolo ormai è stanco di sentire parlare di numeri. Tanto che se voi vedete durante i convegni che ci sono attualmente, anche in televisione, la gente come inizia a sentire parlare di numeri? È stufa e stanca perché vuole delle risposte precise. Allora, come vi ponete di fronte alla domanda che ha fatto il radioscoltatore precedente? Mandarli tutti a casa. Potreste prendere anche chi ha votato Grillo e che vorrebbe stare nuovamente col PD? Grazie. Grazie, grazie mille per il suo intervento. Allora, un giro di conclusione. Penso che sia un po' legato anche a quello che dicevo io. Qual è l'idea del partito? Quindi è come riconquistare questa fiducia di chi si è spostato o più a sinistra o ha votato Grillo che non è detto coincida con spostarsi più a sinistra. Allora, appunto Renzi, come dicevo, pensa ad un PD che includa le persone e non le respinga perché fino ad oggi ci siamo solo ripiegati su noi stessi. Un partito quindi che non si faccia solo ed esclusivamente all'interno dei circoli ma che si allarghi, diciamo, anche all'esterno. C'è stata però una critica a Renzi. È vero che lui ha detto che non si sale sul carro del vincitore, il carro si spinge tutti insieme. A spingere questo carro si sono però aggregati dei cosiddetti renziani dell'ultima ora che proprio non fanno piacere a quelli della prima ora? Non volevo mettere difficoltà. Una domanda che viene posta però spesso. Ho detto che ci sono persone a cui il programma e le idee di Renzi sono piaciute e quindi hanno pensato di aderire a questo tipo di progetto. Poi se lo si vede già come il vincitore, Renzi, io sono chiaramente... Questo dovrebbe fare piacere. È certo. Un'altra telefonata in linea l'ultima. Pronto? Buongiorno, sono Anna. Sì, buongiorno. Senta, io devo dire una cosa a riguardo del signore che ha detto di mandare tutti a casa. Sì. Sì, devono andare tutti a casa, però se vanno a casa e vengono eletti giovani, dietro ci saranno comunque loro. Perché non si combatte di avere solo due partiti in Italia? Sì, è caduta una linea, però mi pare di capire che la signora sia un po' per la semplificazione di questo sistema. Allora, concludiamo con questo giro. Dicevamo, l'ultima domanda, come riconquistare? Come riconquistare? E qual è l'idea del partito? Sì, l'idea del partito. Un partito che sia aperto alla base. Un partito che faccia funzionare i circoli. Un partito che abbia una proposta politica che sia attrattiva per gli elettori, che non abbia paura di andare a fare le elezioni con qualunque sistema elettorale, perché non è il sistema elettorale che fa la differenza. Un partito che abbia il coraggio di chiedere ai propri iscritti e simpatizzanti come la pensa sulle grandi questioni. Noi abbiamo nello statuto del Partito Democratico la possibilità di fare il referendum. Referendum che però il gruppo di potere che assiste in questo momento, parte Cuperlo e parte Renzi, non ha mai voluto disciplinare. Per esempio, in Germania, per fare le grandi intese, la SPD, che pur ha perso le elezioni, prima di sottoscrivere l'accordo di governo con la Merkel, chiede ai propri elettori come la pensiamo su alcuni punti che faranno l'agenda del governo prossimo delle larghe intese. Civati è questo, fa proprio il concetto di Barca sulla mobilità cognitiva. Cioè utilizzare, andare a chiedere, a riprenderci gli elettori con una proposta politica che sia vincente e convincente, non già con le chiacchiere delle larghe intese che decidono nelle segrete stanze, ma aprire il partito alla decisione e dal confronto con tutti gli iscritti, con tutti i circoli, con tutti i simpatizzanti, in modo tale che sia continuo e costante lo scambio tra la base e il vertice del partito, che le decisioni non vengano assunte nelle stanze chiuse, diciamo con una modalità con i baffi, che il Partito Democratico ben conosce da anni. La modalità con i baffi, che fine fa? Io sono la barba, non ho i baffi, chiediamolo a chi c'è i baffi. Io penso, non ho nessuno dietro se non tanti ragazzi che ribadisco, sostengono la candidatura di Cupero. Penso che il Partito Democratico debba ripartire sicuramente dai suoi iscritti e dai suoi elettori. Abbiamo perso tanti elettori tra i giovani, tra i disoccupati, tra i lavoratori precari, tra i pensionati. Il problema non è semplicemente cacciare i vecchi e mettere i giovani. Ci sono tanti giovani di valore e noi ci candidiamo ogni elezione presentando giovani non calati dall'alto, che non sono dei figurine ma che esprimono un consenso reale del territorio. Però ci vuole soprattutto gente rappresentativa. Se non c'è gente che rappresenta strati sociali, categorie, lavoratori, territori, è chiaro che la politica perde di senso, perché la politica o è rappresentanza o torna a essere rappresentanza oppure diventa semplicemente autoreferenziare. Allora a quel punto sì che le cose si decidono nelle segrete stanze. Noi siamo però una politica aperta e partecipata. Trelia, soltanto veramente dieci secondi. Nella tua presentazione al capolista a sostegno di Gianni Cuperlo tu hai detto che bisogna, perché qui si parla di conquistare nuovi elettori, ma anche coccolare i già iscritti, non farli sentire, tu hai detto precise parole, stuprati poi dall'invasione nelle primarie di gente che magari al partito non tiene come tengono tanti iscritti. Una battuta su questo. Mi riferivo più che altro ai congressi di circolo e provinciali che si sono già svolti prima di queste primarie, dove noi abbiamo visto congressi in cui con l'apertura del tesseramento fino all'ultimo secondo utile si sono iscritte centinaia di persone che poi al partito in realtà non si erano mai avvicinate e che dal giorno dopo si sono completamente disinteressati delle sorti del partito. Invece quegli iscritti e quei militanti che ogni giorno tengono vive le sezioni e tengono aperte le sedi hanno visto i propri circoli invasti da gente che col partito non hanno nulla a che fare. Questo è un problema. Dunque, Michela Paparella, a te l'ultimo appello. Perché votare Matteo Renzi? Allora, votare Matteo Renzi perché abbiamo già perso. Abbiamo perso un'occasione incredibile a febbraio e quindi non rifacciamo gli stessi errori. Dobbiamo assolutamente cambiare verso, dobbiamo cambiare i metodi, le scelte, i programmi perché se no non se ne esce più. Dobbiamo vincere, dobbiamo governare. Io credo che Matteo Renzi sia la persona ideale. Stop! Siamo fuori tempo massimo. Io saluto e ringrazio Michela Paparella, sostegno della lista per Matteo Renzi, segretario. Enrico Fusco per Pippo Civati, segretario. Infine, Pierpaolo Treglia per Gianni Cuperlo, segretario. Domenica si vota, lo ricordiamo, alle primarie del Partito Democratico. Nel nostro spazio oggi del telegiornale vi ricorderemo anche le sedi nelle quali è possibile votare. Grazie, grazie mille per essere intervenuti. Le cose si cambiano cambiando, le civati. Dufe, voi invece restate con noi a proposito delle cose che si cambiano cambiando. Tra pochissimo il Bari con Cristian Siciliani. A tra poco.